La necessità di ripristinare quanto prima un servizio efficiente per gli utenti delle ferrovie del Nord Parese è emersa durante la Commissione Trasporti del Consiglio regionale pugliese, che ha tenuto una serie di audizioni sui disservizi e lo stato di avanzamento dei lavori per il raddoppio della Bari Barletta. Questa linea, nella tratta binario unico tra Andre Corato, fu interessata, lo ricordiamo, il 12 luglio del 2016, da un incidente ferroviario che ha causato la morte di 23 persone. In Commissione sono stati ascoltati il direttore generale di Ferro Trambiari a Massimo Nitti ed alcuni utenti provenienti dalle città di Bitonto, Terlizzi, Ruvo e Corato. Da questi ultimi è arrivata la richiesta, che sarà valutata e stato assicurato dai vertici dell'azienda, di alcuni bus con corse dirette tra Ruvo e Barletta. Quanto al superamento del limite massimo di 50 km orari fissato per motivi di sicurezza sull'intera rete ferroviaria, la tratta Bitonto-Ruvo dovrebbe avere l'autorizzazione dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie il 17 dicembre prossimo, mentre per la tratta Ruvo-Corato si trova a tendere la prima metà del 2018. Sulle opere di ammodernamento delle ferrovie del nord barese è intervenuto in Commissione anche l'assessore regionale ai trasporti Antonio Nuziante, che ha spiegato che sono oltre 346 milioni di euro impegnati e che solo per il raddoppio della tratta Ruvo-Corato il finanziamento ammonta 31 milioni di euro, mentre per l'adeguamento dell'area metropolitana nord barese ci sono ancora 180 milioni di euro.